Stiamo al volley con la Bartoccini Perugia, in questo caso ne ho promossa in A1 che nei giorni scorsi si è ritrovata in vista della nuova stagione per le ragazze di Cocce Bovari, primi test fisici, visite mediche, le stiamo vedendo proprio in queste immagini in attesa di cominciare poi con le sedute di allenamento diverse le novità e importanti le conferme. Noi abbiamo ascoltato il presidente Antonio Bartoccini. Sicuramente sarà un campionato difficile, inutile nascondercelo perché è il campionato più bello del mondo, è più difficile quindi ci saranno mille complicazioni, l'affronteremo al nostro solito con il massimo entusiasmo crediamo di aver costruito un roster importante, con nome importante di grande carattore internazionale quindi abbiamo come al solito il nostro mix di esperienza e qualche scommessa giovani quindi speriamo che questo dia i propri frutti e ci faccia figurare bene sul campionato.